Musica Amici sportivi buonasera e ben ritrovati. Festa di colori a Cesenatico che ha ospitato il ventesimo campionato nazionale di corsa campestre CSI. Alla sfilata di apertura a guidare la passerella sono stati tre friulani, Elena Francescatto, Giulio Simonetti e Samantha Mattiussi. Edipicini ha accompagnato e coordinato in terra romagnola i nostri 77 rappresentanti. Alla cerimonia inaugurale Matteo Ferrari dell'US Ovaro ha avuto l'onore di portare la fiaccola che ha acceso il bracere dando ufficialmente inizio alla manifestazione. Sabato 1 aprile hanno preso il via le gare individuali con numeri da record. 2.068 atleti in rappresentanza di 12 regioni d'Italia. Il giorno dopo sul lungomare di Cesenatico l'atto conclusivo dei campionati con lo Stapettone, squadre formate da cinque atleti, che ha sorriso al Friuli. I nostri hanno vinto infatti sulle 80 squadre classificate con Matteo Iere, Roberto Foladore, Giulio Simonetti, Francesco Nadaluti e Daniel Maieron. La staffetta giovanile invece ha portato a casa il quinto posto con Elena Francescatto, Beatrice Simeoni, le sorelle Elisa e Veronica Gortan e Gaia Giazzon. Sette le medaglie conquistate dai friulani nelle gare individuali. Tre ori, due argenti e due bronzi. Titoli italiani alla ragazza Beatrice Vattolo dell'Equipe Moving. A Francesco Nadaluti, polisportiva tricesimo nell'amatori A, imitato nell'amatori B dal compagno di squadra Luca Guatteri. Le medaglie d'argento sono andate a Giulio Simonetti, atletica moggese tra i senior, e ad Alessandro Giacion, gemonatletica tra gli allievi. Bronzo a Vissa Sintaio tra le seniores e ad Erika Bagatin nella amatori A, entrambe dell'atletica 2000 Codroipo. Al nutrito medagliere si è aggiunto l'oro più atteso, quello delle regioni, conquistato per il terzo anno consecutivo dal Friuli Venezia Giulia. E ora le interviste di Cristina Raganato. Beatrice Vattolo della Keep Moving, prima, prima delle ragazze. Allora, cosa ci racconti di Cesenatico? È stato divertente? È stata una bella esperienza, è stato bello poter partecipare a questa gara organizzata dal CSI, molto ben organizzata. Francesco Nadalutti, Polisportiva III, fantastici risultati a Cesenatico per te, campione e nazionale di corsa campestre, provinciale e regionale. Sì, diciamo che è stato un inverno molto proficuo dal punto di vista dei risultati. Mi sono allenato bene, diciamo, partendo da zero quest'autunno dopo un brutto infortunio in bici che avevo rotto la clavicola a settembre. Ho fatto una gara un po' tattica, da buon velocista ciclista, sono stato, come si dice, a ruota per buona parte della gara, per 5 dei 6 chilometri. Dopodiché, sull'ultimo giro, qualche metro prima della salita, ho fatto un'azione, diciamo, un po' prepotente per provare a scoraggiarlo subito e ha funzionato. Ho preso un bel vantaggio e poi mi sono un po' rilassato alla fine. Sì, è stato veramente un bellissimo weekend. Mi è piaciuto lo spirito CSI, lo spirito anche proprio del nostro comitato regionale, molto uniti e molto entusiasmo. Sport con la S maiuscola, senza stress. E anche lui è stato incoronato campione nazionale nella sua categoria Amatori B. Una bellissima gara, sempre in testa. Sì, diciamo che ho provato a partire forte per vedere un po' come reagivano gli altri, conoscevo un po' gli avversari e è andata bene. Luca Guatteri è anche campione sui 5.000 metri l'anno scorso a Rovereto. Sì, nel 2016, in settembre, siamo andati a Rovereto a fare appunto i 5.000, distanza che a me appunto mi piace. Mi dispiace che ci sono solo 3 su 5. Questi qua sono i magnifici 3 dello staffettone del ventesimo campionato nazionale CSI. Su 80 squadre loro hanno vinto. Il Friuli Venezia Giulia ha portato a casa loro per la terza volta. Allora, i 5 sono Matteo Ierep della Polisportiva Tricesimo che ne è assente, Giulio Simonitti, mogese, Francesco Nadalutti della Polisportiva Tricesimo, Roberto Faladore del mogese, anche lui, e diciamo il triestino hanno detto ma non è vero, Villa Santina, ecco, Daniel Maieron. È un'emozione grandissima, credo. Sì, veramente, è stata veramente un'emozione particolare passare in mezzo a queste ali di folla che facevano il tifo a tutta. È stato proprio bello per me. Chi c'era che non ha fatto mai lo staffettone? Matteo Ierep del Polisportiva Tricesimo. Ti ricordi tu, Giulio, cosa hai pensato quando hai partito davanti? Niente, io pensavo, speriamo che arrivi fra i primi e così è stato. Prima di passare a Daniele volevo chiedere di questo bagno nel mare di Cesenatico. Sì, una volta che abbiamo realizzato che avevamo vinto abbiamo deciso di festeggiare facendo un bagno subito dopo. Allora, chiediamo a Daniel Maieron della Trieste Atletica che ha fatto l'ultima frazione, quello che ha portato la bandiera, eh. Cosa aveva preparato sua mamma? Ma mia mamma aveva preparato la bandiera con le foto di tutti i componenti di ogni anno della staffetta e aspettavamo appunto, anche questa, ci speravamo più che aspettavamo. Della prima vittoria del 2015 e del 2016? Sì, esatto. E quindi avete attaccato la terza corona? Sì, sì, l'emozione è sempre grandissima. Tu hai preso la bandiera e sei partito? Sì, la cosa che mi ha impressionato di più sono stati gli ultimi 100 metri, che praticamente, buono, era un tifo incredibile. Ho dato anche la mano a lui, ho preso sulla bandiera, c'era la gente che si apriva, mano a mano che passavi, era una cosa bellissima. Edi Piccini è immerso nel CSI dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Lui sa tutto, lui ha portato giù 77 atleti a Cesenatico. Una piccola regione come il Frenurio di Venezia Giulia, grande vittoria quest'anno. Sì, no, veramente, devo dire che quest'anno, con i nostri 77 atleti, rispetto ad altre regioni che avevano molti più atleti, tipo la Lombardia ne aveva 850, abbiamo fatto tre campioni nazionali, altri tre sul podio, un secondo, due terzi e altri quattro dal quarto al sesto posto. Chi ha organizzato il stafettone, chi ha tirato fuori questi cinque atleti più bravi, la crema della crema del Frenurio di Venezia Giulia? Allora, è già da due anni che ho lasciato libera scelta ai ragazzi, perché sono convinto e sono certo che loro si conoscono meglio. È un onore, è un onore aprire la sfilata con le varie bandiere. Soprattutto è stato bello il tedoforo, anche perché Matteo Ferrari era casualmente con la felpa dell'Aquila del Friuli. E se i cross con i campionati italiani di Cesenatico CSI hanno lasciato la scena, pista e pedane aprono il sipario con la prima prova del trofeo Luigi Modena a Mereto di Tomba. Buona la partecipazione, ma senza particolari acuti. I premi per le migliori prestazioni tecniche sono andati alla triplista Elisa Ius, Liberta Sporcia, che ha vinto i 150 in 19 secondi e 54, e al già velottista Michele Fina, nuova Liberta Sacile, impostosi nel peso con 14 metri e 71. Citiamo ancora Neil Antonell, nuova Liberta Sacile, che si conferma velocista di vaglio, vincendo i 150 in 17 e 84. Anna Costella, nuova Liberta Sacile, che giunge seconda alle spalle della Ius, nei 150 in 20 secondi e 03, pur essendo una specialista dei salti, lungo in particolare. I ragazzi Alberto Nonino, dell'Atletica Malignani-Libertas, 9 secondi e 78 sui 60 ostacoli. e Victor Michalache, della Libertas Sporcia, 4 metri e 65 in lungo. Le altre gare hanno regalato il successo tra i ragazzi a Claudio Alberto Pugnetti, Atletica Mogese, 11 metri e 93 nel peso, e all'Atletica Malignani-Libertas nella 4%, con Colavizza, Bertoli, Miclette e Nonino, 54 secondi e 78. Nelle ragazze vittoria sui 70 ostacoli di Lia Antonell, nuova Liberta Sacile, in 10 secondi e 22. Nel salto in alto di Alice Dodorico, Malignani-Libertas, 1 metro e 37, come la seconda, Anna Vantusso, Libertas-Meretto. Nel vortex di Melissa Zanini, Malignani-Libertas, 43 metri e 54. Nella 4% bis del Malignani-Libertas, con Dodorico, Pirro, Lazzarato e Zanini, in 56 secondi e 44. Passiamo ai cadetti, con la 4%, vinta dalla Libertas-Sambitese-Rurigon, con Gregoris, Basile, Midone e Cerasatto, in 46 secondi e 94. Infine le cadette, con Giulia Ceschiat, Libertas-Sporcia, prima nel disco, con 23 metri e 74. E la solita Malignani-Libertas a dominare la 4%, con Giordani, Govetto, Monaco e Orlando, in 52 secondi e 10. Il prossimo appuntamento, il 23 aprile, è a Remanzacco, per i campionati regionali di staffette. E nel contesto del Trofeo Modena si sono svolte anche gare di lancio del martello. E il commento e le immagini di Fabio Martinis. 8 aprile 2017, ritornano i lanci del martello. A Meretto, in occasione del Trofeo Modena, riservato agli esordienti, spazio anche ad allievi e cadetti della specialità appunto del lancio. Splendida giornata di sole. In pedana, pochi ragazzi, che hanno gareggiato con determinazione e giusto spirito. L'allievo Filippo Codutti, con una serie costante e senza nulli, fa atterrare il martello a 47 e 19. Buon inizio di stagione per lui. Ospite d'onore, il poliziotto Marco Bortolato, che aspettiamo con trepidazione alle sue abituali prestazioni. All'esordio assoluto, anche il cadetto Vattolo Davide, classe 2004. Che, oltre al nuoto, prova a cimentarsi con i lanci. 19,90 per lui, dopo una serie purtroppo sfortunata. Quindi, suo miglior risultato. Delude un po' le aspettative l'allieva Martini-Isabella, forse demoralizzata per la decisione dell'Italia di non gareggiare i prossimi mondiali di Nairobi in Kenya nella categoria allievi. Solo 55,89 per lei. Comunque una buona prestazione. Continua a migliorare, invece, l'allieva di Alessandro Sacca, Elisa Job, la tolmezina che con 43,36 fa il suo nuovo personal best. Buona prova anche di Sara Zanirato, che arriva a 27,57. Alla fine sul podio ci sono sorrisi per tutti. Buone, come sempre, l'organizzazione e il giusto clima che si respira sempre a meretto. Pasquetta agonistica con l'Aviano in corsa 1.3, organizzata brillantemente dall'Atletica Aviano, andata in scena in forma ridotta per senior master, vista l'imminenza con la 10 miglia internazionale Aviano Pleancavallo. Hanno partecipato alla gara di Matteo Redolfi, affiancato dalla famiglia, quasi 150 giovanissimi e ragazzi, provenienti da tutto il Triveneto, che si sono affrontati in questa, che era la seconda tappa, del Grand Prix Giovani Memorial Giovanni Bressan. Ecco vincitrici e vincitori, dove il Veneto l'ha fatta da padrone. Esordienti B e C, Arianna Fabris, Atletica Iesolo, e Mattia Verrangia, Atletica Aviano. Esordienti A, Zoe Dalcin, Libertas Vittorio Veneto, e Lorenzo De Fanti, GS Quantin, ragazzi, Serena Rodolico, Malignani Libertas e Samuel Mazzucco, GS Quantin, Cadetti, Sara Meneghel, Atletica Sernaglia, e Nicolò Bedini, Nuova Atletica Tre Comuni. Allievi Sara Mazzucco, Atletica Dolomiti Belluno, e Simone Masetto, Nuova Atletica San Giacomo. Le gare riservate a tutte le altre categorie, ha visto primeggiare Osvaldo Zanetta, dell'Atletica Dolomiti Belluno, seconda piazza per lo junior Michael Sirbu, del GS Quantin, e terza per Nicola Semproniel, dell'Atletica Edilmarket Sandring. Le prime donne a tagliare il traguardo sono state nell'ordine, Martina Festini Purlang, dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, Mariana Bedini, Nuova Atletica Tre Comuni, e Manuela Moro, dell'Atletica Vittorio Veneto. Le immagini che avete visto sono state ricavate sul sito tuttopordenone.com e con questo noi chiudiamo qui. Grazie per il padele ascolto, arrivederci a mercoledì prossimo.